Questa è la minaccia della povertà e della fiducia. La povertà e la fiducia è qualcosa che segue tutti a noi nella nostra vita quotidiana e di pensieri. Io non parlo soprattutto anche ma non solo della proprietà e dell'organizzazione materiale, dell'archezza, ma anche quello degli altri rapporti che abbiamo già in mezzo. Può essere la nostra fantasia, questo è il nostro approcciamento per noi stessi e per gli altri, che può essere l'amore, che può essere la gioia per un lavoro o la non gioia per un lavoro. Allora, delle volte ci sentiamo poveri in generale e verso la città. E delle volte molto bene. Grazie a tutti.